ciao amici di youtube bentornati in un nuovo video oggi dopo aver pulato su Genshin si pull anche su Wooter in Waves è arrivata la magistrata con insomma la nostra amante dei cazzo di draghi come noi e io non vedevo l'ora dal primo trailer in cui l'ho vista mi piaceva tantissimo sono desperata perché 50 e 50 banner a pt0 delle armi questo a pt19 e spero solo vada bene perché a me piace anche quella dopo il vero problema è il fatto di quella dopo perché fondamentalmente anche se dovesse andare male alla fine riesco a prendere tutto più o meno farmando però mi vorrei tenermi qualcosa per quella dopo quindi spero bene 4 stelle non ho niente di costellato tanto perché su Gian ho pullato molto poco come ben sapete e quindi io non ho praticamente nessuno costellato quindi auguratevi buona fortuna speriamo vada tutto bene ai miei amici è andata molto bene io devo essere la pecora nera del gruppo citando la storia tra l'altro di Wootering quindi incrociamo le dita Genshin va bene 19 andiamo a 20 singola per ribilanciare il pt ok 3 stelle vabbè ora fino a prova contraria mi sembrava più che giusto ok siamo a 20 bella ok andiamo a 30 let's go 4 stelle speriamo ci sia qualche san hua please san hua vieni a me ecco quella che volevo meno si inizia eh questa cosa l'ho già vista succedere su tutti i giochi succederà anche qua buona doppio 4 stelle non si butta mai via buona c1 c1 sono entrambi adesso o t3 ovviamente mi ha dato quell'altre due però finché doppio 4 stelle molto buono anche perché vi ricordo in questo gioco non c'è il 4 stelle garantito nella multi 5 stelle quindi ci perdiamo un 4 stelle a volte quando tiriamo quella del 5 stelle ok andiamo a 40 40 alla luce di quello ok oh qualche pistola qualche pistola azzurra evviva mi tocca loccarle rendiamoci conto eccola c2 bene la c2 era fondamentale ora se me ne escono le altre sono contenta ma questa era la più fondamentale la c2 benissimo benissimo c2 top sono contenta ok bene 50 aspettate facciamo così so che ce li abbiamo eh se ce li abbiamo ok 50 viola dai un'altra sanwa un alto un mortefi che ce l'ho c1 quello che vuoi forza io l'avevo detto shima vabbè non l'avevo mai trovato non l'avevo mai trovato io quindi ci stavo prima o poi doveva succedere non poteva succedere poi sono circondata da amici sessi che ne hanno un sacco quindi prima o poi doveva succedere anche a me mi sento male mi giuro ok 60 la prossima è quella del 5 stelle oddio vabbè una multiprima una multiprima una multiprima se le se cioè va bene ogni caso ok quindi da un 60 mi diventa il 51 52 sì lì sì 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 52 oh 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 sì early midi è vinta sì che bello posso prendere anche l'arma i cazzo di draghi i cazzo di draghi è con sanua tra l'altro in multi topissima bellissima la mia bambina ah meno male raga sono troppo contenta piti 52 quindi early bene bene è andata bene è andata bene è uscita un'altra sanua che non abbiamo festeggiato perché eravamo pazzi la mia bianchina la mia bianchina dai top sono troppo contenta grazie bootling 3 andiamo a 13 esci e sbrigati subito esci e sbrigati no anche qua possono uscire con stellazioni sanua quindi quattro è una qua pistola a quattro stelle per favore pistola a quattro stelle io disperata è stata a quattro stelle buone il refine della comanda ancora top bene quella fa piacere veramente posso sta qui aspettare una pistola io? è vero che non uso nessuno per ora con la pistola uno dei motivi però è che non ce l'ho no guarda Iki cioè io veramente delle robe micidiali vabbè 13 23 quattro stelle vediamo anche copie di personaggi baisi sanua mortefi ci sono eh posso dirmi anche quelle eh ragazzi ragazzi la cadenz la cadenz si che questa è anche buona questa è anche buona grazie 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 la cadenz che è anche buona top meno male metta a piaccia la pistola a quattro stelle si stappa lo spumante più per questa che per gizzi sono talmente esaurita una discord va bene doppio quattro stelle vabbè vabbè 33 metà piti dai stelle stelle eh qua ci toccherà un po' piangere ma va bene ho trovato Jinzy prima non mi voglio lamentare onestamente sono contentissima di averla vinta quattro stelle c1 le qualità c1 un piacere salve signorina smettila francesco smettila subito francesco anias Justin ci ha insegnato a credere 43 che l'ho visto chiamare da tanti di voi in chat 43 no no andiamo chi sei un'altra pistola un'altra comando ragazzi io sono felicissima eh quest'arma è buonissima ne posso anche portare ho capito ho capito ho capito ho capito ho capito però insomma eh cioè però doppio quattro stelle la la gommosa mmm una persecuzione oh almeno questi scelto qua perfetto 53 yes prima 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 sì l'avevo presa prima oh che bello troppo contenta ok quindi questa era 44 45 no no ragazzi andava benissimo 46 46 sì viti 46 top 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 no 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 ok 68 probabilmente molti del 5 stelle ad alta probabilità infatti ci ha messo un po' di più a caricarla eccolo ci siamo ci siamo ok 60 61 62 e Sanua Sanua buona 64 Taoshi 65 e a 66 poco soft e lei Paolo Scuro anche qua Cesso 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 grazie Fabio ha cambiato idea 31 vediamo eh è uscita prima Paolo che culo sempre tu mamma mia questo non ce la faccio veramente 24 25 26 27 28 29 30 pt 30 tondo il solito cesso Paolo riesci sempre ad essere un cesso in ogni contesto incredibile ma non ti vergogni un pochino eh ma perché c'è un amico mio Giova che è venuto per gufarmi e allora ah quindi dovevi far vedere quanto eri forte contro il tuo amico dovevi fargli vedere guarda se mi gufio io ti scuro in faccia all'arma pt 30 ecco ah ok vabbè ci sta hai fatto hai fatto bene davvero vai let's go grazie Gregor 73 eccoci 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 dai 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 yes si 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 oh si dai eh il secondo 50 e 50 che vinciamo eh ragazzi hanno vinto tutti e due vuol dire che lo perdo io Oh Gesù, mi sento da svedire No, mi sento da svedire Ti rincolpo, ti prego Ah, lo parto io, lo parto io 65, andiamo a 75 Yes, you We have already pulled for her Esattamente alla singola del 5 stelle No Early Di quanto? Di nulla quasi, però ci va bene lo stesso Va bene lo stesso 56, 57 57 58 Ah, sì, Early veramente Ah, un signor Early Brava Eva, brava che te ci giochi Brava, brava Bravi voi che ci giocate, io fiera di voi Oh mio Dio È più È tutto merito del mio metodo Allora, è vero, sul bannerarmi però Sono abbastanza spulato Va bene Aspetta perché c'è anche la terza No, ti prego Sì, era l'impatto Per carità, no Ma che se ne fa di tre anni uguali? No, smettila Era meglio di una banda di personaggi Se c'erano altre 5 stelle Ha ragione il signore Ace Magia, magia L'ho letto, l'ho letto e l'ho ignorato Silenzio Se non le leggo le cose io vuol dire che non devono essere lette Mi smettila Magia, magia Ma che se ne fa di tre anni uguali?